Ciao amici di XS2 Games, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi prova di volo dello Xiaomi Fimi A3 con i nuovi aggiornamenti Un drone che secondo me sta migliorando davvero tanto aggiornamento dopo aggiornamento Vediamo come vola ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un bel commento qui sotto, ovviamente tanti bel like, condividete il video Se volete acquistare questo prodotto trovate tutti i link qui sotto in descrizione video Questo è tutto, buon volo a tutti, ciao ragazzi! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti